Cari amici, eccoci di nuovo in mezzo alla natura per parlare di una nuova pianta che non è solo una pianta medicinale, ma è anche una pianta commestibile. Quindi uniamo la terapia, come piace a noi tante volte, al cibo. Parliamo dell'amium purpureum. L'amium purpureum è una pianta della famiglia delle labbiate, quindi si chiama anche falsa ortica. Plinio diceva che è l'ortica morta, ovvero l'ortica che non punge. Il nome viene lamos, lamos dal greco vuol dire cavità, vuol dire bocca. Sembra che le donne greche che dovevano temprare i loro figli, i bambini spartani dovevano essere temprati alla paura, dicevano se tu oggi non ti comporti bene. Dicevano vedi questa bocca, ebbene c'è un mostro che è un mostro a forma di donna, che è questo lamos, ha questa bocca grande che ti mangia se tu non farai quello che io ti dico. Quindi è una pianta che ha evocato anche queste cose. In realtà è una pianta bellissima, interessante. Troviamo il lamium purpureum, che è quello che vedete oggi. Vedete che bel cespuglio di lamium purpureum. Troveremo anche durante l'estate poi il lamium album e le due piante, che hanno entrambe effetti antinfiammatori sostanzialmente, una lavora di più, questa, sull'apparato sessuale maschile, l'altra più sull'apparato sessuale femminile. Quindi abbiamo già capito che sono degli antinfiammatori, dei drenanti, sostanzialmente in cui possiamo fare delle tisane, ovviamente con le foglie e anche con i fiori, e bere queste tisane per depurare l'organismo e soprattutto la parte bassa dell'organismo della nostra pelvina. E questo appunto lo faremo, gioverà per esempio il lamium purpureum alla prostata, il lamium album sarà importante per la leucorrea, per le vaginiti, eccetera, eccetera. Però al di là di questo, questa pianta buona, molto buona, che voi potete, è della stessa famiglia della menta, però non ha il gusto della menta. Inizialmente ha un gusto non buonissimo nel momento in cui noi la usiamo facendo un pesto, per esempio, in cui mettiamo i pinoli, in cui mettiamo magari la menta, mettiamo tutti i vari componenti del pesto alla genovese, facciamo invece un pesto alla campagnola. Mettiamo questo pesto e lo usiamo magari sia per metterlo sulla pasta, oppure lo usiamo per tornire un arrosto, eccetera, eccetera. La pianta cotta ha anche un gusto ancora più buono. Ed è una pianta che ha un effetto meraviglioso, tipo antinfiammatorio, tipo veramente come la salvia, come il rosmarino, come la melissa, tutte queste piante che appartengono a questa bellissima famiglia, che non ha niente a che fare con l'ortica. Ecco, le ortiche, la famiglia delle urticacee, in cui troviamo l'urtica urens, in cui troviamo la parietaria, di cui abbiamo già parlato, è una famiglia completamente diversa di piante, con attività terapeutiche completamente diverse. Qual è la cosa interessante di questa pianta? È stata che nel tempo hanno fatto dei lavori su questo. Vedevano che questa pianta aveva un bellissimo effetto depurativo a livello del fegato. Come dicevo, è una pianta drenante, importante, utile, soprattutto in questo periodo primaverile. Facendo questi lavori sul fegato hanno cercato di indagare anche, come fa bene anche a certi pazienti che hanno l'epatite, anche l'epatite C. E si è scoperto dagli studi in vitro che questa pianta effettivamente ha un effetto anche antivirale. Quindi la cosa a noi interessa tantissimo, perché ha un effetto simile in un certo senso a certi farmaci di cui vi ho parlato in altri video, in altri podcast, come per esempio la ribavirina. Quindi ha un effetto interessante nell'epatite C. E come agisce? Agisce impedendo proprio la penetrazione del virus nella cellula. Crea una sorta di pellicola sulla cellula in modo che il virus fa fatica ad entrare. Naturalmente poi che questo sia una cosa assoluta o meno, questo lo vedremo, ma ciò non toglie che è una pianta molto buona, che si trova, vedete, nei campi in questa stagione, anzi per un lungo periodo, la troveremo adesso fino quasi all'autunno, si trova nei punti ombrosi. Non ama tanto il sole questa pianta. Quindi la raccogliamo, raccogliamo le foglie e possiamo farne delle insalate, naturalmente, e possiamo usare anche i fiori, possiamo cuocerla, possiamo usare la cruda tritata, possiamo fare degli estratti. Abbiamo questo effetto depurativo su tutta la parte sottodiaframmatica del corpo, quindi il fegato e organi pelvici e così via, quindi un effetto molto buono, oltre che mangiare una pianta molto interessante. Quindi però quello che colpisce è questo effetto antivirale, che non guasta, diciamo, questo effetto di protezione delle cellule, è una cellula che ha una membrana compatta, è una cellula in cui il virus fa più fatica ad attaccarsi e a sputare dentro il suo RNA. Ecco, vi ricordo tra l'altro che l'epatite C è un virus della stessa famiglia RNA del Covid-19, quindi a noi interessa molto e ci sono anche in sperimentazione anche farmaci che agiscono sull'epatite C che sono stati applicati anche al Covid-19. Quindi vedete che abbiamo, come con questa pianta, coniugato il concetto ipocratico di unire che il cibo sia la tua medicina, la medicina sia il tuo cibo. Quindi direi che è meraviglioso questo cespuglio stupendo. Oggi raccoglierò delle foglie che metterò nell'insalata che assieme alla rucola, assieme alla lattuga, assieme al fungo che taglio, il fungo fresco che taglio nell'insalata, assieme a dei pezzi di avocado metterò alcune foglie di lamium purpureum. Bene, se vi è piaciuto questo video, clicca mi piace, commenta, iscriviti al sito didatticascienzatura.it, soprattutto abbonati alla nostra rivista per ricevere i quaderni settimanali di informazioni di medicina naturale, che sono quaderni molto approfonditi, che poi alla fine d'anno li raccoglieremo anche in maniera meravigliosa su un libro importante di riferimento. E sostieni naturalmente con questa iscrizione il nostro sforzo per andare avanti, per poter produrre, per poter studiare, produrre sempre nuovo materiale, materiale importantissimo, queste cose non le trovate scritte sui libri, perché pochissimo c'è scritto su questo lamium purpureum, per esempio. per raccogliere questo materiale e quindi sostenete il mio sforzo iscrivendovi soprattutto alla rivista, seguitemi anche nelle varie dirette e così via. Arrivederci al prossimo incontro.